Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Interest Simulator Oggi ci troviamo nella mappa di Halstein Non la season 2 ma la season 1 Non per giocarci in carriera stavolta ma bensì Per iniziare a costruirci una mappa e restaurarlo in poche parole Sì perché infatti come vari di voi già sapranno Presso ci sarà un mod contest E quindi anche io voglio costruire una mappa Utilizzerò Halstein come base Poi lo rifarò tutto e praticamente l'avrò finito Molto probabilmente non sembrerà neanche Halstein In questo video inizieremo le cose basi Quindi smantelleremo tutto il villaggio E inizieremo a buttare giù le basi di quello nuovo Sarà un po' lunghetto ma sarà tutto un timelapse Quindi spero che vi piaccia come serie questa E vi lascio al timelapse Ciao 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 Won't you keep me up again Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, 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 ooh Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.